Ti piace il tuo regalo? Chi? Il soldato Julia? Owen ha detto che mi avrebbe sorpresa. Beh, indovina un po'. Sorpresa non sa proprio operare. Lasciala in pace, è il primo giorno. Perché la difendi? È andata all'università statale. Anch'io. Beh, è magra e bionda. Anche Meredith. È fastidioso. Anche tu. Dov'è tua moglie a proposito? E tu che hai detto a Owen? Che deve mandarla via. Insomma, lui sa quanto sia importante per me. E mi sembra qualcuno che mi faccia crescere professionalmente. E lui si presenta con questa Barbie da Desert Storm che non entra in sala operatoria da dieci anni. Se è questo che pensa del mio talento, allora lo dovrò mollare. Non hai ancora sentito Isi? Ma nessuno ha parlato con lei. Lo sai, non si può parlare di Isi mentre io mangio. Sono l'unica preoccupata qui. Che c'è? Sono tornata al lavoro oggi. Volevo solo un pranzo normale con voi. Ah sì? Allora dà un'occhiata in giro. Non c'è niente di normale. Non c'è. Allora... ah